E' l'ultimo punto per stasera, pensando della venuta di Gesù Cristo, della Sua nascita in mezzo a noi, il fatto che Lui ha preso su di sé la carne, è diventato uomo, e che Gesù regna, Gesù è vittorioso, e Lui ci chiama alla vittoria Sua. Anche noi siamo chiamati ad una vita vittoriosa. Con Gesù Cristo. Ora, adesso, è per tutta l'eternità. Spesso persone pensano che Gesù è sulla croce, Gesù non è vivo. Tanti altri pensano che Gesù è al di là, in qualche altro posto, non pensa più di noi, non è coinvolto in questo mondo. Il Dio della Bibbia, il Signore Gesù Cristo, in effetti, come vedremo, Lui sta regnando adesso. Lui è in pieno controllo. E personalmente io sono convinto, guardando la situazione del mondo oggi, sono convinto che è stato un atto di misericordia questo periodo della vita. Cioè, il fatto che il virus è uscito in tutto il mondo, le persone soffrono in ogni parte del mondo, era una specie di misericordia da parte di Dio verso di noi, per aiutarci a svegliare un po'. La scienza non è sufficiente spiegare tutto. Benessere, tutte le cose che abbiamo oggigiorno, non è sufficiente per soddisfare il cuore dell'uomo e non ci conduce alla salvezza che si trova in Cristo e Lui soltanto. Tanti di noi eravamo comodi con la vita, tanti di noi eravamo felici di fare le solite cose e non c'era posto per Dio, colui che ci dà il respiro ogni giorno, non c'era più posto per Lui nella nostra vita. E il virus arriva, mandato in un certo senso anche da Dio stesso, per prendere la nostra attenzione, per farci pensare, ragionare un po' di più, comprendere che è vero quello che dice le scritture, ognuno di noi soffochiamo la verità per poter continuare a vivere nei nostri peccati in modo nostro, come vogliamo noi, per noi, per la nostra gloria, non per il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo e la sua gloria. Ma purtroppo, secondo me, non era sufficiente nemmeno questo periodo del virus. Tanta gente, forse per un paio di settimane, ha cominciato a pensare di più, ragionare, cercare il Signore, conoscere cosa è la vita, perché siamo qui, siamo veramente scimmie, no, no, non è vero. Tante persone hanno iniziato a pensare e poi si sono abituati alla nuova vita, pandemia, e hanno dimenticato subito il fatto che Dio c'è. E dobbiamo rendere conto a Dio. Secondo me, poi, serviva, purtroppo, questo periodo che i governi in tanti posti, non Giappone, ad esempio, perché usano ivermectina, ad esempio, e hanno casi quasi zero, e continua sempre così, perché hanno trovato un modo di risolvere il problema del virus lì, senza tutti questi vaccini. Ma comunque, un'altra storia. Tanti governi che vogliono prendere controllo della popolazione, obbligare tante cose alle persone, ignorando poi la scienza, che tante persone hanno avuto il virus e hanno immunità naturale. Si vede ogni giorno sempre di più che l'immunità naturale protegge molto meglio di qualsiasi vaccino oggi. Tanti medici, infermieri, ad esempio, erano subito contagiati con il virus, e poi, cosa succede? Hanno avuto immunità naturale, erano ben protetti, potevano continuare a servire, ma visto che non volevano prendere una cosa ancora sperimentale, hanno perso poi il lavoro. Non potevano più lavorare, guadagnare, curare pazienti, niente. Questo è il mondo in cui stiamo vivendo. L'Austria parla di dare multa alle persone che non prendono nel braccio qualcosa che vuole obbligare il governo. Tanti paesi sono così oggi. E secondo me anche questo è una misericordia di Dio per prendere la nostra attenzione. Tanti di noi stiamo per perdere la libertà. La libertà di parlare, la libertà di fare ciò che vogliamo. Tante cose, un grande rischio oggi in tanti posti, e anche questo rischio è una grazia di Dio, nel senso che dovrebbe prendere la nostra attenzione. Bisogna venire a Cristo, bisogna avere cristiani che guidano i paesi, persone che vivono per la gloria di Dio, non per la gloria stessa. Questi tipi di persone cristiane che si impegnano in ogni aspetto della vita possono guidare bene altri a cos'è la vera vita, perché vivono non per se stessi, ma per il Signore Gesù Cristo e per il bene di altri. Vivono per servire altri per la gloria di Dio. Purtroppo questo anche serve per prendere la nostra attenzione. Comunque concludiamo qui con un paio di versetti. Gesù regna, Gesù è vittorioso. Adesso andiamo a Isaia, capitolo 9, versetto 5 e 6. Gesù, questo figlio che doveva venire, qui, in modo chiaro, vediamo che questo è Dio, Gesù è Dio, sarà chiamato Dio potente, Padre eterno, Principe della pace. Versetto 6. Per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno. Quindi un trono di Davide, una pace senza fine, il suo regno per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia. Da ora, da ora e per sempre, questo farà lo zello del Signore degli eserciti. Questo versetto qui ricorda anche non soltanto che Gesù era profetizzato di Gesù come Messia, come Salvatore, come Dio stesso incarnato in mezzo a noi, la seconda persona della Trinità, e anche qui il fatto del suo regno, che lui regna e per sempre e non finisce mai il suo regno. Gesù sta regnando. Adesso, oggi, è in controllo il nostro Signore Gesù Cristo. Primo Corinti, capitolo 15, versetto 24 e 26, l'Apostolo Paolo scrivendo a una chiesa locale a Corinto. Poi verrà la fine, poi verrà la fine, quando consegnerà Gesù il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà e ogni potenza, perché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici, tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Gesù sta regnando adesso finché mette sotto i suoi piedi ogni suo nemico. I regni della terra crescono e crollano. Il regno di Dio continua sempre a crescere. Ogni giorno, ogni anno, ogni secolo, fino a quando tutti riconoscono l'unica via in questa vita è Gesù Cristo. Bisogna inginocchiarci davanti al re Gesù Cristo. Il suo disegno per questa vita è quello migliore. Ogni governo prova in modo suo a stabilire il regno, vivere, far vedere agli altri come si deve vivere e poi tante persone soffrono, non funziona, confusione e basta guardare il mio paese adesso, ad esempio, Stati Uniti, molto potente, ma ora cosa fanno? Buttano fuori la legge buona di Dio, ognuno vive in autonomia, autoregge, ognuno guida se stesso secondo i suoi pensieri e c'è tanta confusione, tantissima corruzione e la gente soffre. Tutti soffrono adesso perché stanno negando il fatto dell'importanza di Dio essere la nostra guida, il Signore, la sua via è quella via giusta e lui continua per mettere regni terreni di crescere e poi crollare e l'unico che rimarrà sempre e crescerà sempre è il regno di Gesù Cristo. Gesù è il re, Gesù sta regnando e lui sta portando avanti tutte le cose. Ultimo nemico poi per essere messo sotto i suoi piedi sarà anche la morte e non ci sarà più la morte quando Gesù ritornerà. Questa è la buona notizia per ognuno di noi. Il nostro Signore Gesù è in controllo di tutto. E oggi voglio concludere un po' lungo questo brano ma è tanto bello non potevo non leggere tutto. Non lascerò tanti commenti con questo ma leggiamolo insieme. Questo viene da Romani capitolo 8 versetto 28 fino a 39. Bellissimo questo brano credo prego che sia una grande benedizione anche per te e la tua famiglia stasera. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio i quali sono chiamati secondo il suo disegno perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo affinché egli sia il primo genito tra molti fratelli e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio ma lo ha dato per noi tutti non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancora più è risuscitato è alla destra di Dio e anche intercede per noi chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione l'angoscia la persecuzione la fame la nudità il pericolo la spada come è scritto per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno siamo stati considerati come pecore da macello ma in tutte queste cose noi siamo se tu sei unito a Cristo tu sei più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati infatti sono persuaso che né morte né vita né angeli né principati né cose presenti né cose future né potenze né altezza né profondità né alcuna altra creatura potrà potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore e può essere stasera questo Natale che ti senti isolato ti senti scoraggiato ti senti male per quanto le cose non vanno secondo il tuo piano come desideri tu ma se tu sei unito a Cristo se ti sei ravveduto davvero eri triste per i tuoi peccati hai confessato a Dio tutti i tuoi peccati ti sei arreso a Gesù Cristo creduto in Gesù Cristo abbracciato Gesù per fede per ricevere il dono della vita il dono della salvezza se hai fatto questo passo vuol dire che niente può separarti dall'amore di Dio per te tu regnerai con Gesù Cristo sei unito adesso a Gesù Cristo per grazia mediante la fede hai ricevuto il dono dello Spirito Santo il potere di Dio opera in te e tu sei più che vincitore anche in questa vita forse non ti senti di essere più che conquistatore più che vincitore in questa vita ma se Cristo è dentro di te se Lui è il tuo Signore Lui è il tuo Salvatore sei unito a Lui e Lui regna su tutto questa è la buona notizia che tutti noi dobbiamo ricordare questo Natale questo periodo che usiamo per ricordare la nascita la venuta di Gesù Cristo in conclusione oggi riassumiamo i tre punti abbiamo sentito uno era sembrava il Natale la venuta di Gesù Cristo sembrava insignificante sembrava insignificante ma non lo era affatto ha cambiato il mondo per sempre quando Gesù è venuto secondo punto soffriamo ancora oggi tutti noi e ci sentiamo spesso di essere nelle tenebre forse riconosci bene stasera questa è la tua realtà ma la luce del mondo Gesù è con noi Gesù è con noi Emanuele non è come sembra se Dio è con te se Dio è per te hai tutto niente può separarti dal suo piano per te e tu sarai vittorioso in Cristo il terzo punto è questo Gesù regna ed è vittorioso il suo Vangelo è vittorioso potente trasforma il cuore delle persone trasforma paesi trasforma nazioni trasforma e trasformerà ancora tutto questo mondo Gesù regna ed è vittorioso il mondo intero verrà a Cristo questa è la buona notizia e noi saremo per sempre con Lui la domanda è per te tu ci credi oppure no Cristo è il tuo Signore sei unito a Lui oppure no Gesù ha detto in modo anche abbastanza chiaro chi non è per me è contro di me non c'è una via di mezzo o amiamo Gesù o lo odiamo bisogna scegliere stasera avere Cristo come tuo Signore come tuo Salvatore non aspettare più non mettere per un altro giorno decidere cosa farai con Gesù Cristo quest'anno questo Natale ti incoraggio di pensare seriamente a chi è Gesù per te Lui ti sta chiamando Gesù dice vieni a me venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo io salverò la vostra anima e vi darò la vita la vita abbondante e la vita eterna può essere tua stasera questa realtà grazie per aver visto questo clip dell'episodio se vuoi vedere l'intero episodio c'è un link nella descrizione di questo video allo stesso tempo ti invito a iscriverti al canale così facendo vedrai ogni volta che esce un nuovo episodio e se vuoi sostenere questo canale o questo podcast ti invito a lasciare una recensione da 5 stelle dovunque ascolti podcast e così facendo aiuterai altre persone a trovarci e ricevere le benedizioni dalla parola di Dio che Dio ti benedica ciao ciao grazie a tutti Grazie.